Sì, sono veramente molto contento perché ho trovato il primo gol tra i professionisti e il primo gol con la Mare Nera Azzurra. Hai una dedica, un pensiero per la testa? Sì, prima cosa che mi viene in mente è perché volevo ringraziare la mia ragazza perché è stato vicino la mia famiglia e il mio procuratore che sempre ogni partita mi dice che mi massacra che devo fare questo gol. Senti, intanto grazie al tuo gol, anche grazie al tuo gol, il Pisa ha conquistato la terza vittoria di fila contro il primo a Spezia, adesso Ciccadella. Quante vici non devono salvezze? Sì, oggi abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo meritato di vincere e quindi dobbiamo pensare partita dopo partita e andiamo avanti così, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare. Secondo te qual è stata la chiave di questa partita? Dov'è che il Pisa ha vinto questa partita? No, no, Pisa secondo me ha vinto a livello agonistico nel senso che siamo stati compatti, abbiamo sbagliato il meno possibile e le occasioni che le abbiamo avute abbiamo fatto il gol. Senti, adesso una settimana di stop dopo tre partite radvicinate e poi due trasferte difficili, Bordelone e Nettella. Sì, adesso dobbiamo riposare e poi la prossima settimana ci dobbiamo allenare bene perché ci aspetta tre partite, è molto difficile. Ultima domanda, questo Pisa è molto utile, anche noi ti vediamo spesso in diverse posizioni del campo, ce n'è una che preferisci in particolar modo oppure ti trovi bene? No, mi trovo bene, nel senso già mi trovo bene qua a Pisa perché ho scelto subito di tornare qua dopo che abbiamo vinto il campionato, quindi quello che dice mister noi dobbiamo fare, dobbiamo scendere in campo con la vola e determinazione giusta.